Cioè, sai qual è la questione? Che io non ho mai trovato questa parola qua interessante. Cioè, a me questa roba della resilienza, del essere resilienti, mi sembra sembrata una roba un po' farlocca per come me l'hanno spiegata, applicata alla psicologia. Allora, a me l'hanno spiegata più o meno così. Tu prendi due bambole, non so perché tu stia prendendo due bambole, però, insomma. Due bambole, una di gomma e una di ferro, ci dai delle martellate, quella di ferro si ammacca. Quella di gomma torna normale. Allora, secondo una certa concezione della vita, è meglio restare normali. Cioè, quella di gomma che torna indietro, invece quella di ferro c'ha la botta. Secondo un'interpretazione che si fa di questa parola in psicologia, vorrebbe dire avere la capacità di resistere ai traumi e agli urti della vita. No, perché quella di gomma non c'ha più l'urto, quella del ferro si vede. Ma io voglio dire, se tu hai un trauma, il ritorno alla normalità non sarà comunque quello di prima, perché avrai comunque fatto l'esperienza dell'elaborazione di questo trauma. Se la vita è un cammino, e nel cammino si incontrano degli ostacoli, una volta che sei inciampato, caschi avanti e sei comunque 15 cm più avanti rispetto a dove eri ieri. Metti anche che torni indietro e vai a vedere, ma come mai sono inciampato qua, ma guarda, a te sono proprio bauco. Puoi tornare indietro e vedere per non fare lo stesso errore. Ma una volta che vai avanti, hai imparato? Forse. Cioè, se tu prendi quel dolore lì seriamente, hai imparato qualcosa di più? A me sembra tanto quell'atteggiamento di quelli che si fanno andare bene un po' tutto, in maniera passiva. Poi, io sono uno che prende le robe tanto di punta, tanto di petto, e magari sta meglio loro, eh. Però voglio dire, con un atteggiamento resiliente, così come viene spiegato, si impara qualcosa dalla vita. Perché se facciamo gli errori, è perché abbiamo bisogno di imparare qualcosa, abbiamo bisogno di vedere qualcosa di noi in quella situazione lì. Non vorrei mai che dietro questa resilienza si fosse, in realtà, un consiglio di vivere la vita così in maniera passiva e soprattutto di non rilaborare i propri dolori. Se tu hai un lutto, qualcosa di grave, che cosa vuol dire che poi sei resiliente e vai avanti? Magari è il momento di fermarti. Se c'è un dolore forte, qualcosa da osservare, fermati un attimo. Altrimenti questa roba non ha senso. È per quello che ho scelto questo titolo, perché sono due gusti che non fanno mica d'accordo, capito? O mangi il cioccolato, o mangi il limone. Non si può tenere tutto insieme, non si può tenere il trauma con la normalità. O c'è il trauma, o c'è lo stare bene, la normalità, diciamo. Una condizione di benessere. Se ce n'è uno, il cioccolato, eh, non si può stare il limone. Come diceva il gelataio qua di Villafranca, guarda, vuoi cioccolato e limone? Ti do io mille lire, vai a prendertelo là in fondo, perché se prendi cioccolato e lo metti vicino al limone, riovini sia uno che l'altro. Eh, e io sono mica qua a lavorare gratis, eh? Stai distruggendo il mio lavoro. È uguale, se c'è la sofferenza, non puoi far finta di niente. Stai lì col dolore, e osservalo, perché è lì che ti vuol dire qualcosa. Essere resilienti. Stai distruggendo il mio lavoro.